Chi voterà nel 2026? Centro-destra o centro-sinistra? Ma io nel 2026, se si riferisce alle elezioni comunali... Alle elezioni comunali? Io ho un progetto in mente e se lo realizzo... Una lista, una lista, quindi non è fuori dalla politica. No, io non l'ho mai detto questo. Ho detto che la politica locale mi piace, mi piace perché è un metodo con cui... E se al ballottaggio riesci... Se fosse un centro-destra contro un centro-sinistra, chi voterebbe? È lo stesso discorso che ho fatto quando c'è stato Ralli e Ghinelli. Ho semplicemente detto che ognuno è libero di fare quello che vuole. Assolutamente, non c'è nessuna discussione. Ho un progetto in mente che è questo. Tra l'altro ho fatto un primo incontro esplorativo a Battifolle, che è il paese in cui sono andate cresciuto, coinvolgendo la cittadinanza, e vediamo quello che arriverà fuori. Magari non andrà in porto, magari sì, e quindi è un tentativo che voglio fare. Ne ho già parlato da tanto tempo, chiaramente, ora forse è la prima volta che ne dico in televisione. In bocca al lupo, quindi, insomma, per... Viva il lupo, io. È una proposta che vorrei fare agli aretini, vediamo se andrà in porto oppure no. Grazie. Grazie.